Un sostegno davvero convinto a Nivardo Pansavolta. Il 29 domenica dobbiamo tutti andare a sostenerlo al ballottaggio. Nivardo ha dimostrato di essere un amministratore serio e rigoroso e dobbiamo consentire a Cesenatico di continuare questa fase di sviluppo nelle aree più importanti come il turismo. Ma lasciatemi anche fare una breve, piccolissima considerazione di carattere generale. Il sostegno a Nivardo Pansavolta, come da tanti altri sindaci al ballottaggio domenica, è anche un segnale forte e chiaro a una destra che non riesce a governare, che fa arretrare il Paese. Quindi diamolo, diamolo con forza, tutti insieme!